Praticamente mi sto rievo, piano, e dopo le mani sui due giorni, apriamo bene il bacino, lo spingiamo da l'anti, il vento viene curato, le spavolini le altre, aumentano il polvere delle orecchie, il spio e il spio regolamento con il resto alla destra. Sinistro, spavolini i spavolini. Sinistro, spavolini i spavolini i spavolini. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, quattro, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, cinque, un minuto e il vento, lo spavolini i spavolini i spavolini i spavolini i spavolini. Sì, stai. Sì. 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 la penticola, stiamo in alto perché vi sentite un po'. Così però allungiamo questa faccia, scendo, metto la sua sperma. Sollevo di nuovo e dormo. Da qui facciamo smettere la circunferenza lentamente alla vostra destra e torno. Stiamo in presso lo stesso lato, metto la circunferenza e torno. Metto, torno e torno. Appassate, stavate da parte, scendo e passa, metto e torno. Metto, metto, metto e torno. Nella stessa, insocchiamo con la schiena in testa, prendiamoci l'opera destro e lo portiamo aperto. Nella stessa, insocchiamo con la schiena in testa, insocchiamo con la schiena in testa, insocchiamo con la schiena in testa. Nella stessa, insocchiamo con la schiena in testa, insocchiamo con la schiena in testa. Nella stessa, insocchiamo con la schiena in testa, insocchiamo con la schiena in testa. Insocchiamo con la schiena in testa, insocchiamo con la schiena in testa, insocchiamo con la schiena in testa. Insocchiamo con la schiena in testa, insocchiamo con la schiena in testa. Insocchiamo con la schiena in testa, insocchiamo con la schiena in testa. Insocchiamo con la schiena in testa, insocchiamo con la schiena in testa. Insocchiamo con la schiena in testa, insocchiamo con la schiena in testa, insocchiamo con la schiena in testa. Insocchiamo con la schiena in testa. Insocchiamo con la schiena in testa, insocchiamo con la schiena in testa. e spisa la tercera sul basso. Sto bene, torno al centro, talloni incendi, arrivando sulle braccia, sollevo e accoggio la tua bombare, cercando di inspirare e respirare profondamente. Ogni volta che sollevo, inspiro, accoggio e spiro, inspiro, 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 inspiro. In cima, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1, sollevo la grappa, destra, in alto, chiesa, e poi le mani dietro al ginocchio, insieme perché stiamo in piede. Sto bene, torno al ginocchio, insieme perché stiamo in piedi. Tempiare, E poi facendo la troncha a domani chiama, anche dal pieno un problema che non è afferdo. Alla destra, allo piede, la mano sinistra, se non arrivate allo piede, vedete che gioco a sinistra, cerchete di tenere la colonna alla scelta e all'eserciamento. Alla destra, allo piede, la mano sinistra, se non arriva all'eserciamento, se non arriva all'eserciamento, se non arriva all'eserciamento. Tutte le due le mani dietro, sul palcio, scoppiamo la mano a destra e l'ultima bruciata. La miglia. Allora, la colonna alla sinistra, all'ampiede a sinistra, se non riuscite anche la colonna a destra, portate la mano al suo ginocchio. Allora, non riuscite anche la colonna alla sinistra e all'interno, se non riuscite. Grazie a tutti. la testa l'ascita e la testa l'ascita bravo per il nostro centro manteniamo la testa di crocio il tallone vicino ai glutei e scendiamo il punto di crocio alla nostra filista ciao ciao Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Buongior. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie. Buongiorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1, Grazie a tutti. Posizione. Ok. Inspiro Tiro Tiro Inspiro Elevo Abra Incorso Elevo Tiro 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 Tiro